Il terzo tempo, la tradizione del rugby, dopo la vittoria storica della Benetton Treviso nella prima partita della Celtic League, siamo qui a festeggiare, siamo qui anche con i giocatori, questo è il bello del rugby, in un momento importante per il movimento, tutto il movimento del rugby italiano, la vittoria della Benetton aiuta. Proprio una partita come l'avevate sognato? Sì, un debutto veramente bello, partire con la vittoria è emozionante, soprattutto a fine primo tempo che magari eravamo sotto anche di 12 punti, abbiamo iniziato a giocare, ci abbiamo creduto, piano piano loro a forza di placare si sono stancati e alla fine siamo venuti fuori, perfetto così, meglio così, non poteva andare. Cosa è successo dopo la prima parte appunto per iniziare il secondo tempo così con più forza come l'avete fatto? L'allenatore ci ha cambiato un po' la tattica, ci ha detto di giocare di più, era previsto magari al primo tempo di calciare un po' di più per cercare di giocare nella loro metà campo, invece al secondo tempo abbiamo giocato di più, anche palle in mano e siamo riusciti a fare le mete perché per segnare bisogna giocare giustamente, credo che questa sia stata un po' la chiave. Abbiamo magari migliorato un po' la disciplina, nel primo tempo abbiamo preso tanti calci e dopo credo che tutto il pacchetto abbia fatto un grandissimo sforzo nelle mole, nelle mische e tutti quanti assieme e hanno fatto la differenza credo alla fine del lavoro degli avanti che ha stancato molto gli avanti avversari. Dopo questa vittoria c'è da sognare o dobbiamo comunque andare tranquilli e sempre concentrati più che altro? No, è stata la prima finale come siamo detti fra di noi, quest'anno sono 28 partite, 28 finali, abbiamo vinto la prima in casa con una cornici pubblico stupenda e fa veramente piacere giocare con lo stadio pieno e spero che sia sempre così e dopo già venerdì sarà un'altra battaglia a Suonsi contro gli Osfris. Grazie 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 Grazie